Cercate un deck che possa dire la sua in un meta popolato dai soliti leader? Volete optare per una soluzione aggro che incarni pienamente l'essenza di tale archetipo? Quale personaggio potrà rispondere appieno a tali esigenze spaccando a metà il meta corrente? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il quinto capitolo di One Piece è arrivato da oramai più di un mese e ha portato con sé leader che attraverso i loro effetti ed abilità hanno fortemente cambiato ancora una volta il volto del gioco. Sakazuki, Enel, Luffy Viola e già celebri Katakuri, Zoro e Barba hanno dato prova ancora una volta di essere superiori a molti altri loro colleghi, sprigionando una forza esplosiva che negli ultimi eventi organizzati ha regalato spettacolo e dato prova di stabilità e concretezza. Ma dalle lontane lande dove i rivoluzionari si nascondono, un ufficiale dell'armata si sta facendo sentire, incoraggiando i propri subordinati a dare il meglio di loro in combattimento grazie al potere del frutto del diavolo che ha mangiato. Sto parlando di Belo Betty. Nella profile di oggi quindi andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck, scoprendone le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni della bella rivoluzionaria. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click, per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di belo-betti giallorosso, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5.000 punti di forza e 4 vite a supporto vi permetterà una volta per turno, durante la vostra fase principale, di scartare una carta con tratto Revolutionary Armi dalla mano, aumentando in seguito di ben 3.000 punti la forza di massimo 3 character alleati sotto il vostro controllo fino alla fine del turno che possiederanno o il tratto armata rivoluzionaria o un effetto trigger a propria disposizione. La decklist in questione infatti possiederà una grande quantità di carte trigger, pronte per essere utilizzate all'istante, aumentando il grado di aggressività dell'intero mazzo, e vedrà il quartetto di belo-betti costo 1, Kuma, Koala, Inazuma, Marley, Cracker, Sanji Blocker, Ivankov, Karasu, Lindbergh e Satori, con il duo di smoothie per il lato character, assieme alla doppia copia di Emporio Energy Hormone per gli event e la doppietta di Revolutionary Army HQ lato stage che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno di sicuro le belo-betti sercino, gli Emporio, i Karasu, i Cracker, i Sanji e le Koala che formeranno la scheletratura di base dell'intero deck, mentre il resto servirà di contorno anche se il più delle volte carte come gli event o la stage risulteranno fondamentali per velocizzare l'entrata in campo o in mano, a seconda dell'innesco, di carte che potranno darvi un grande supporto in fase offensiva, soprattutto in previsione dell'utilizzo dell'abilità del leader che una volta partito trasformerà il vostro campo di battaglia in un vero e proprio circolo di colossi pronti a fare incette di vite rivali. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la sinergia tra Ivan e tutti gli altri rivoluzionari presenti nel deck, dato che, attraverso il suo effetto, potrà darvi la possibilità di impiegare forze fresche a costo zero sul terreno che potranno dare del gran filo da torcere a chi vi giocherà contro. Tenete bene d'occhio anche Karasu, che con la sua abilità metterà davvero in difficoltà il leader avversario, attestando la sua potenza di base a mille punti in meno rispetto alla sua natura. Altro elemento utilissimo sarà Cracker, che se giocato dalle vite sarà micidiale, soprattutto se il suo effetto potrà essere sfruttato al massimo, portandovi in diverse occasioni in netto vantaggio, pronti per chiudere il match nel breve periodo. In più, Smoothie, Sanji e Satori, utile sia come counter che come alleato in fase attaccante e tutti gli altri personaggi con tratto rivoluzionario, entreranno a pieno tra le mire dell'effetto del leader, portandovi a gestire in un singolo turno attacchi davvero massicci che prosciugheranno le risorse difensive rivali. Per massimizzare ancora di più la fase offensiva, verrà in soccorso Inazuma, che se possiederà un valore di attacco pari a 7k o più, guadagnerà un pericolosissimo rush, rappresentando un'ulteriore fonte di fastidio da gestire per chi vi giocherà contro. Ultimi, ma non per importanza, saranno di sicuro Lindbergh e Marley, che andranno rispettivamente a mettere KO un personaggio avversario con forza pari a 3.000 o inferiore quando attaccherà e non permetterà l'utilizzo di blocker da parte del rivale durante la sua fase di combattimento. Unica richiesta per innescarne l'effetto? Che anche qui possiedano entrambi 7.000 o più punti in termini di forza. Quindi dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? A grate qualsiasi avversario si muova. Questo mazzo orbita attorno allo scendere quanti più pezzi possibili a singolo turno, per poi sferrare attacchi potenziati attraverso l'abilità del leader. Attenzione comunque, gestite per bene l'utilizzo e l'assegnazione dei don. Questo fattore sarà fondamentale per la riuscita pieno della vostra strategia di gioco che vi vedrà uscire vittoriosi dai match. Per la fase offensiva questo deck sarà votato totalmente allo scopo, a parte le koala che di solito le ho utilizzate in fase di test per attivare o lo stage o per il loro valore di counter. Tutto il resto potrà tornarvi utile, letteralmente, per dar fastidio alle vite rivali. Per quella difensiva avrete unicamente i sanji blocker che se triggerati saranno una favola, altrimenti potranno tornarvi utili o come counter, o come ulteriore forza fresca da scagliare contro il muro avversario. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo le belobetti costo 1 o la stage, Ivan con un qualsiasi altro personaggio rivoluzionario, preferibilmente Karasu, una koala e un event. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, se il deck girerà concluderete qualsiasi incontro in meno di 4 vostri turni, cancellando dalla board ogni singolo leader presente in gioco. Essendo un agro puro, questo farete, picchiare forte senza dare la possibilità di fuga. Ovviamente qui c'è il rovescio della medaglia, soffrirete molto il mid-late game, e se chi vi giocherà contro vi prenderà le misure, per voi non ci saranno possibilità di vittoria, quindi sarà per ogni incontro una o la va o la spacca. Per la win condition, l'unica che avrete a disposizione sarà massiccio impiego di forze sul campo, potenziare il tutto con l'abilità del leader o l'assignazione dei don, ove necessario, e menare forte fino a quando davanti a voi non vedrete solo che ceneri. Invece le carte obbligatorie che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno le belobetti, le koala, gli Inazuma, i Cracker, i Marley, i Sanji, gli Ivan, i Karasu e i Lindbergh. Mentre per gli altri ho visto liste che non giocano né event né stage, altri addirittura utilizzano i copy promo blocker e via dicendo. Spetterà a voi testare a fondo le dinamiche di questo deck trovando infine una quadra che si adatterà perfettamente alle vostre esigenze. Infine per la fase counter avrete a disposizione 8 più 2000 e 34, un record assoluto più 1000 che potrete utilizzare in accoppiata con gli unici due event presenti nel deck. Non avendo molto a cuore la fase difensiva sul campo dovrete gestire bene le risorse dedicate a questo settore se vi ritroverete a prendere in largo con la durata dell'incontro. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Betty parte di solito per prima e utilizzerà elementi come la controparte character o la stessa stage per andare alla ricerca dei pezzi utili alla propria strategia di gioco. Utilizzate con criterio ogni singola risorsa a vostra disposizione e fatene tesoro nei momenti più difficili visto che, lo ripeto, si inizieranno a prendervi le misure e per voi non si metterà bene. Ricordate che incarnerete l'essenza dell'aggro attraverso la rivoluzionaria e quindi le dinamiche che vi apparterranno saranno più volte verso l'assalto all'arma bianca piuttosto che ad altri stili di combattimento. Non cercate di fare control, non cercate di vestirvi da midrange, non vi apparterrà come natura e lo scoprirete a costo del buon esito del match. Volevo inoltre ringraziare Flavius per avermi fornito la lista che avete visto in questo video. Concludendo, Belobetti è a tutti gli effetti un primo prototipo di mazzo antimeta, che sono certo getterà le basi per dare il via a molti altri membri appartenenti a questa categoria che con a capo la rivoluzionaria daranno battaglia a viso aperto al meta che, oggi ma soprattutto domani, vedrà leader ancora più performanti e devastanti solcare le sconfinate acque dei sette mari. E voi avete mai vestito i panni del comandante dell'armata dell'Est? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.